Vittorio, sono Enzo Ratti della Enzo Ratti Enterprise. Ma come, fai una nuova serie e non mi dici niente? Su Sky? Io per Sky ho fatto una serie di cazzate per craccare l'abbonamento, ma niente, non ci sono riuscito. Ma comunque non ti chiamo per questo. Io ti posso proporre un po' di attori bravi. Ludovico Maglie, pugliese, bravissimo, ma ancora più bravi i genitori che hanno un caseificio. Guarda, se c'hai voglia di una buona mozzarella, fagli un provino. Allora no. Deborah Pangasio, attrice eccezionale. Sai come l'hanno definita? Ah, lo sai? E allora no. Il piccolo Saverio Belli. Tu non so se hai visto Doc, la fiction con Luca Argentero. Lui era il bambino dell'ecografia. No? Pattia Carri. Lui lavora su Tele Lombardia, fa quel programma con i vecchi. Oh, sono tutti proprietari di casa quelli lì. Ci ha fatto intestare già 12 appartamenti. Veramente convincente. No? Gennaro Buttafava? No. Millimillesimata. Niente. Altrimenti pot... Pronto? Pro... Che modi? Poteva almeno darmi le password di Sky. Che mangio oggi? Ludovico Maglie! Lo facciamo un bel casting subito? Perfetto! Sì! Fresca, eh? Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto tu, Verena. Salgo, quel rum? Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta conoscere il tuo cognato. Mamma, mamma, non è come... Sì! 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 Sì!